Se questo video dovesse... No, no, non so se dirlo Dovesse arrivare a 20.000 mi piace Non succede niente, assolutamente niente Supreme Key, Off-White Cosa Phillip Lane, Chi Sei E online finalmente la Sgarashop Link in descrizione Amici miei! Oggi siamo qui per un video davvero incredibile Ma io vi aspetto come al solito alle 23.30 Sul mio canale viola, che è questo qui Ma oggi siamo qui per un'altra Meme Review Questa Meme Review vi piace molto e quindi Joinate, continuate a joinare il nostro Reddit Meme Sita, abbiamo appena raggiunto i 26.000 membri Siamo qui per valutare i meme migliori della settimana Come al solito Vediamo un po' di hot questa volta Quando sei anni tua madre ti trascinava via dalla sezione dei Lego Dicendoti che non avrebbe comprato il set da 50 euro You could not live with your own failure You cannot live with your own failure Ma mio Dio ma sta parlando di me Medici in USA quando scoprono che l'infettato non ha l'assicurazione Noi amici miei siamo davvero fortunati Perché viviamo in un mondo dove se tu ti spacchi una gamba non devi pagare un milione di euro Dove ericcia di idea Persone normali Vivere in eterno è impossibile La regina Elisabetta Caro Tu non hai idea che cosa sia possibile È immortale Maestra mi son fatto la calchina sotto La tua professoressa è di quinta superiore Ovviamente è postato dal gabinetto Quando chiede la prof si può andare in bagno ma ti dice di no Ed è così che prese il nome di Troia And approved Scritto così Quando si dice che le 0-9 sono dei bimminchia Persona nata nel 1909 Appotent approved Holy shit man Very good Quando alle medie ti scaldavi il panino sul termosifon Oh mio Dio ma sta parlando di me Quando ti ricordi che la video lezione 9 sono le 10 e 40 Damson Quando ti spoilano la casa di carta e quindi tu li bruci la casa Justice But I think that la casa dei papelli is the most sopravvalutata serie in the world I think Video lezione Ora libera per fare meme Su reddit Bestemmiare Non bestemmiare Bestemmiare ma dire che è dissato Gesù Cristo Holy shit Io gioco una partita normale I miei genitori Non dicono niente Io gioco un'aranca I miei genitori It's dinner time È bellissima questa meme Quando dici un tuo amico deficiente ma poi gli spieghi che volevi solo dirgli che gli manca qualcosa Alberto Angelo Tra l'altro amici miei mancano solo 300 sub al mio canale viola per andare a pesca con la Coca Cola Elementos Davvero ineccepibile Bambino Esistono altre città oltre Domodossola che iniziano a perdere? Maestra No Altrimenti si alternerebbe Abitanti di Desenzano Meme Abbasso budget Quando sei il primo a consegnare i compiti online Technology expert Dormi di fama la scuola va sbagliata in un suo video Mi amatori di reddit Io non ho dissato la scuola sbagliata Io ho detto che prendono i nostri meme e li ripostano palese palese sul loro account Ho solo dato un dato di fatto Quando il tuo carichetto scappa dalla tua città ma tu gli abbazzi la famiglia e lo adotti Don Gino Modern Pro Nessuno Assolutamente nessuno Caricamento di GTA Questa piccola manovra ci costerà 51 anni Oh mio dio quanto cazzo è vera questa cosa Quando invece di seguire la lezione disattivi il microfono e fotocamera ed inizi a dormire Quando con il piscio non c'entri il buco e allora lo pulisci con la carta igienica Questo potrebbe essere Golden Conte No non me la sento Mi è postato dal gabinetto Quando mia madre non mi voleva comprare il pasqualone di Cars Non mi hanno mai regalato un pasqualone Erano delle fucking mystery box Che in Italia sono illegali come poteva essere venduto Quando all'acqua parca a 20 anni senti un donicenne dire Sono tutta bagnata Quando hai tre follower su Reddit Influencer Holy shit but you can do this also in Instagram Quando per guardare i film usi siti cinesi Ti apre tante schede ma tu le chiudi istantaneamente Expert This is wrong Because tutti i siti sono russi Quando ti chiedono perché hai voluto stanziare tutti quei soldi per il tuo funerale Non capiresti Quando è uscito questo meme Questo meme anche a video Video lezione Io che sto giocando la mia partita a FIFA Quando vai a pisciare con il durello Oh no Questo mi... Golden Golden Oh mio Dio Quando la prof ti mette amministratore A amministratore This is wrong Quando la prof ti mette amministratore della videochiamata Sono ineluttabile Quando i bambini che hai chiuso in cantina due settimane ti chiedono perché li hai portato del cibo So che a voi piace Tutto fresco Io Do un osso al mio cane Tutti gli altri al museo archeologico Io Mi abbono a Disney Plus Amazon Prime Video Netflix Tu dovevi distruggerli Non unirti a loro Quando capisco che siamo stati fortunati a prendere il virus cinese Perché Se avessimo preso quello di marca Il mondo sarebbe finito Big brain My friend This is Big brain Io faccio cadere la saponetta per sbaglio Io faccio cadere la saponetta per sbaglio La saponetta Che si schiaccia Essi lupo Oh mio Dio Very approved Quando stai dormendo e senti afferrato il piede Ma realizzi che è il tuo gatto Non hai un gatto Quando per la prima volta rapisci un bambino Don Gino Quando vedi un video di una persona che si fa male Ma non escono i neri che ballano Questo meme Ah ma vieni qui Non ti faccio niente Io Ok Sempre io Oh mio Dio Quando tua madre ti dice Vieni qui che non ti faccio niente Oppure devi passare davanti a lei E lei ti fa così Devi passare un metro E stai così e speri che non ti tiri lo schiaffo Nessuno Mia madre che fa la spesa online Technology expert Io Spacco un albero per fare materiale Gli altri nella riserva naturale Estremo We need to see the top of the week I think that the top of the week are very good Ho una penna nera che scrive rosso Impossibile Guarda Io Semino la polizia sul GTA V Sempre io Passo di fianco alla polizia Polizia Non ho mai visto questo uomo in vita mica Quando in video lezione dici di aver dimenticato i compiti a scuola Oh Dio È tono No Leggendario Questo ragazzi è golden content Chi è che l'ha fatta? Frankot Oh mio Leggendari stonks Oh mio Dio Complimenti Io ho 8 anni dopo aver ascoltato una canzone di Eminem Oppure di Da Supreme Quando ti metti downvote e poi ti metti upvote Così il tuo meme aumenta di due upvote invece che di uno Modern problems require modern solution Siamo sicuri che funzioni Downvote Upvote Mathematic Quando durante una video lezione spellete la prof dopo una votazione Perché c'è democrazia Politician E' un ragno fermo sulla scrivania Mi giro il ragno non c'è più Il ragno non c'è più Panic Ragazza Nessuno può toccarmi il culo Ragazzo di nome nessuno This is nessuno Quando vedi un meme divertente ma non mostra gli upvote che ha Benissimo Teniti pure i tuoi segreti Non ci sono upvote probably Quando a sette anni scarabocchiavi su un fo... E dicevi agli altri che era corsivo Writer Quando all'elementare la maestra ti chiamava durante l'appello ma tu rispondevi assente Oh mio dio very good my friend So funny Quando per andare a scuola compravi delle forbici che non avevano la punta arrotondata Ah asazin E' ancora attuale il meme man Guys Tu Non posso mandarti le foto dei compiti perché sono via Il tuo amico in quarantena da due settimane Quando con i nerf colpisci qualcuno senza che ti vedano James Bones Quando ti stai segando e senti qualcuno arrivare ti sistemi in 5 secondi Lewis Hamilton Io scopo il triplo di te 3x0 uguale 0 Get destroyed Oh mio dio Epico Golden content Holy shit So funny Quando a 5 anni facevo due gradini alla volta Nim già Quando le tette più grosse di tutte quelle della scuola ma sei un maschio Ho vinto Ma quale prezzo Quando al ristorante il bambino che urla e corre tra i tavoli cade e si rompe la testa Evviva Quando rompi una gamba al tuo amico ma poi gli dici che non ne sei fatto nulla e passa subito Doctor E' solo per calmarlo Io accendo la candela perché c'è buio Le altre persone che dovevano pulire la cisterna di benzina Ripete roppete Quando chiedi al secchione se ti fa copiare ma lui vuole tua madre Un piccolo prezzo per la salvezza E tu accetti Io mentre esco di casa terminata la quarantena E c'è il bunker che si apre c'è la luce e si vedono cose Quando vai in bagno il piscio si divide in due ma riesce lo stesso a centrare il buco Lebron J Quando chiede alla prof di andare in bagno lei ti dice di no ma tu ci vai lo stesso perché sei a casa tua Anarchi Quando non trovi più la tua auto ma poi ti ricordi di non averla Sherlock Questa devo salvarla ragazzi Questa è davvero golden Quando entra la prof in video lezione vuole tutte le videocamere accese Ma è del mestiere questa Io che metto la voce modificata in video lezione faccio infartare il prof settantenne Kyle Oren Technology expert Mondo intero si sbarazza finalmente del Questa cosa qui Riscaldamento globale ai massimi storici Hello Tra l'altro pensate un po' noi stiamo preoccupando tanto di questo nemico che c'è adesso Ok c'è ora adesso tra dieci giorni tra un mese Ma non ci stiamo preoccupando del principale problema globale che è il riscaldamento globale Che nei prossimi cento anni ci farà estinguere dalla nostra terra Però questo chi se ne frega perché tanto è tra cento anni Amici miei questi erano i meme più belli della settimana Mi raccomando noi ci vediamo alle 23.30 sul mio canale viola Quindi se avete il twitch prime potete fare la sub al canale gratis E si va a pesca con coca cola e mentos Noi ci diamo quindi tra poco Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto Cliccate sulla campanella per trasformare questo canale in una chiesa E noi ci vediamo in un prossimo video Wooo Wooo